Il Presidente del Consiglio Comunale, Luca Scorcella, ha convocato il Consiglio Comunale della città di Tolentino, l'ultimo prima delle elezioni amministrative 2022, di domenica 12 giugno, per martedì prossimo, 31 maggio, a partire dalle ore 16.30, presso la Sala Riunioni delle SSMSPA in Via Roma, per trattare il seguente ordine del giorno. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio. Approvazione Rendiconto Anno 2021 Deliberazione di Giunta numero 127 del 27 aprile 2022 ed infine Approvazione Piano Finanziario e Tariffe 2022